La prima centrale nucleare galleggiante russa ha raggiunto la sua base permanente nello stretto di Bering. L'impianto, intitolato all'accademico Lomonosov, ha dovuto percorrere 5.000 km in tre settimane, attraversando il mare artico fino alla Chukotka, e ora potrebbe diventare operativo in poco tempo, come sostiene il governatore della regione, Roman Kopin. Contiamo di ricevere i primi kilowatt di corrente già a dicembre. Avremo elettricità per tutta la città di Pevet e per i suoi abitanti. Con la mini centrale nucleare galleggiante, la Russia punta a garantire l'accesso all'energia elettrica anche alle zone più isolate del paese. In Chukotka, l'accademico Lomonosov sostituisce una centrale a carbone che dovrà essere smantellata una volta entrata a regime alla produzione di energia atomica, che può andare avanti senza bisogno di rifornimenti per un periodo massimo di 5 anni. Sebbene le autorità si dicano certe dell'affidabilità del progetto, gruppi ambientalisti come Greenpeace hanno espresso timori per possibili rischi legati alla sicurezza ambientale.